A Milano il lascito spirituale dell'incontro del Papa con le famiglie sarà un condominio solidare per giovani coppie, stranieri, studenti e lavoratori precari. Un luogo dove sperimentare nuove forme di convivenza grazie a una rete di associazioni, fondazioni, cooperative impegnate nel territorio. Maison du Monde è un progetto di housing sociale voluto da Fondazione Cariplo, dall'assessorato alla Casa della Regione Lombardia, da Fondazione Housing Sociale e realizzato grazie all'intervento del Fondo Immobiliare di Lombardia. Nel quartiere multietnico di Via Padova la Casa del Mondo vuole essere un esempio di integrazione tra famiglie italiane e straniere, tra giovani e anziani. Il progetto è stato realizzato al Civico 36, originariamente di proprietà dello scultore scomparso Marco Mantovani e successivamente donato dall'artista alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Tra l'altro il Papa oggi, questa settimana, è accolto a Milano da tutto il mondo e quindi giustamente la Maison du Monde è un contrappeso, diciamo, che resterà nel tempo di questa sua visita. Gli alloggi saranno 50 una volta terminato completamente l'intervento e destinato sostanzialmente a famiglie in difficoltà, prevalentemente, di tutte le nazionalità. Noi abbiamo creduto nei progetti di abitazione, già partendo con l'housing sociale. Questo lo riteniamo un importante progetto di housing sociale, in cui abbiamo messo a disposizione un fondo senza ritorno e però abbiamo messo a disposizione anche i fondi e le competenze dell'housing sociale. Si rimette a disposizione della collettività un luogo bello di Milano oppure in un quartiere spesso complicato, scommettendo su un incontro tra le culture, tra le generazioni, mi sembra il modo migliore per riutilizzare tanti spazi della nostra città.